Ciao, allora questo è un video un po' diverso dal solito, è un video riguardante l'organizzazione del guardaroba e il cambio di stagione all'interno dell'armadio. Siccome tra pochi giorni inizierà ottobre, penso che lo caricherò i primi di ottobre il video comunque e quindi è ora di controllare cosa c'è nel guardaroba e dare un po' un cambio spostando la roba prettamente estiva. Ho pensato potesse essere utile un video di questo genere visto che io mi occupo anche di riorganizzazione del guardaroba, se non lo sapevate andate pure a vedere sul mio sito che è www.nonsoloshopping.eu che è anche il sito del blog, tra le varie attività c'è anche quella e quindi ho pensato di fare un video dando qualche consiglio, qualche trick. Ok, ci troviamo davanti all'armadio, chiaramente questo non è tutto mio, quella è la parte di Massi, noi oggi ci occuperemo della mia parte che è quella e se si state guardando il mio outfit io sono assolutamente scalza in giro per casa. lo andiamo ad aprire, vi sentite pronti? Ok, potrebbe sembrare molto disordinato, lo è. Più che altro non ho fatto il cambio di stagione la scorsa stagione e quindi all'interno si sono accumulati più di una stagione. però adesso andremo a risistemarlo. Prima cosa da fare è tirare giù il contenuto dell'armadio. Naturalmente non appena io mi sono messa a filmare la videocamera si è spenta. Ottimo, quindi l'ho messa in carica e dopo ricomincerò con quella intanto, quindi vedrete dei cambi di qualità del video. Eh vabbè, questa è la mia eterna lotta contro la tecnologia, sappiatelo. Il primo consiglio che volevo darvi e che dovevo darvi prima di procedere per quello che faccio questo intermezzo con la webcam è chiaramente quello, mentre svuotate l'armadio, io adesso ho solo cominciato, dividere già gli abiti veramente invernali o autunnali, gli abiti un po' leggeri ma che sapete che in qualche modo potete indossare magari per qualche occasione speciale o per qualche serata pur essendo leggeri anche in autunno ed inverno e i capi assolutamente estivi che per esperienza o per texture, tessuti o quant'altro, anche i colori magari, hanno poca possibilità di essere indossati in estate. considerate che comunque li mettete soltanto via e quindi se dovesse servirvi l'abito verde smeraldo a pua potete sempre andarlo a recuperare, diciamo che in dicembre è meno probabile utilizzare un abito del genere, però teneteli a portata a chi non si sa mai. Ed eccoci qui, allora come ho suddiviso i vari? Lo scomparto è vuoto, tra l'altro approfittatene sempre per pulirlo e disinfettarlo e mettere i nuovi profumi armadi eccetera eccetera quando fate questi cambi in modo da evitare problemi e impolveramenti vari, allora io li ho divisi in questo modo, lì ci sono le camicie, laggiù vedete le giacche, qui ci sono gli abiti autunnali, primaverili e invernali che ritengo più da giorno, questi sono quelli un po' più estivi quindi un po' più leggeri che però potrei usare in qualche occasione, in qualche serata, in qualche cena, qui abbiamo invece quelli un po' più invernali per colori o tessuti, lì dietro ci sono quelli prettamente estivi che comunque so, non utilizzerò o utilizzerò pochissimo, là ci sono i pantaloni, queste sono le gonne del tailleur, vedete sono pochissime, perché in genere le gonne sono ancora appese là dietro, dietro le camicie, le tirerò fuori dopo, lì poi ci sono i pantaloni e poi là ci sono i jeans colorati che rientrerebbero nella stagione estiva ma che in primavera e anche in autunno con le belle giornate io utilizzo ancora, veniamo poi alle questioni scabrose, a quelle che fanno male, ossia, ah beh quelli là sono dei jeans estivi che andranno poi messi con la roba estiva, non so perché li ho messi qui, là, veniamo alle cose scabrose, ci sono due categorie di cose che vanno assolutamente messe via, queste e quelle, come procedo? generalmente, yeah, così mi vedete, vedete? Sì, generalmente mentre tiro fuori le cose dall'armadio le divido già in due differenti pile, una delle cose che mi lasciano un po' perplessa, tipo quelle cose, chissà, le rimetterò mai? Due, quelle che so per certo che assolutamente non riindosserò più. Ok, direttamente dal delirio, adesso farò anche le riprese poi dall'alto volevo giusto dire due cose, guarda che vi appoggio qui, pieno contro sole, perfetta eccomi qua, allora, due cose volevo dire, io adesso vi farò vedere come riorganizzo il mio guardaroba considerate che io lo tengo abbastanza controllato, nel senso che tendo a non accumulare molto nonostante le immagini non siano a mio favore, ma tendo a non accumulare tantissime cose che non uso o che non mi piacciono o che non si possono più indossare. Adesso poi vi farò vedere come li ho divisi e come procedo. Ognuno di noi può organizzare il suo guardaroba in diverse maniere, perché il guardaroba dovrebbe rispecchiare un pochino quello che siamo e come ci gestiamo la vita. Quindi, appurato il fatto che il mio guardaroba fino a due minuti fa sembrava un'esplosione, ma forse c'è della psicologia da fare, vabbè, sicuramente si può dividere per colori, quindi per esempio partendo dagli indumenti bianchi e arrivando ai neri attraverso tutta la gamma di colori e quindi sezionandolo per colori. Sezionandolo per tipologia di indumento, tutte le giacche, tutte le camicie, tutti i pantaloni, tutte le gonne, tutti i vestiti, oppure che è circa quello che tendo a fare io per occasione d'uso. Quindi una parte di guardaroba più dedicato al giorno, al day wear, alle cose da ufficio e da tempo libero, una parte dedicata alla sera, che può essere dalla sera più casual a quella un pochino più ricercata, per arrivare alla cosa da eventi, agli abiti da eventi, agli outfit da eventi. Devo dirvi la verità, siccome il mio armadio non ha tanta lunghezza, gli abiti lunghi e le gonne lunghe non sono in questo armadio, sono in un altro scomparto, che semmai dopo vi faccio anche vedere. In quell'altra parte di armadio ci sono tutti i cappotti, tutte le cose lunghe che in questo scomparto si rovinerebbero perché rimarrebbero piegate in fondo. Quindi appunto vi dicevo, per colore, per tipologia di indumento, per occasione d'uso. Queste tre, diciamo così, regole non vietano che poi ognuno si strutturi come meglio crede, come meglio ritiene. L'importante, secondo me, è saper poi gestire l'armadio, nel senso che non sempre si ha il tempo di cercare per ore o per minuti e mezz'ore, quello che sappiamo che c'è ma non sappiamo dove è finito. Quindi in base a come ragioniamo, a come siamo abituati o a più o meno quando indossiamo un capo, sappiamo dove andarlo a cercare. Questo è il primo tip. Quindi organizza il tuo armadio seguendo uno schema in cui ti ritrovi. Parliamo quindi delle due categorie di abiti che vengono messe da parte durante lo spacchettamento dell'armadio, lo svuotamento dell'armadio. Sono di due categorie. La prima categoria che è quella che fa meno male, mettiamola così, partiamo. Questo è emblematico. Questo qua è un bikini che non si sa perché era nell'armadio, c'era finito neanche quest'estate, l'estate scorso probabilmente, vi faccio vedere la parte sopra. Questo qua è un bikini, può piacere o non piacere, questo è un'altra questione. È un bikini che per ovvie ragioni non mi va più, non ci sto più dentro. Tuttavia è un bikini di marca, perché in questo caso è un bikini di cavalli, di qualità, in ottimo stato. Questo genere di cose, ve ne faccio vedere un'altra perché questa del bikini non so se è emblematica. Questa qui è un'altra delle cose che erano in quella motta lì. Questa è un bikini stampato e parliamo di qualità, nel senso che è assolutamente in ottimo stato, non è rovinata, non ha niente. Cosa ha questa minigonna per cui l'ho messa in quella motta, in quella pila di cose? È decisamente troppo corta per me, per come io mi vesto adesso, per come mi vedo in questo momento. Questo però non ne fa, dal mio punto di vista, un capo da buttare. Io questa minigonna, quel bikini e altri oggetti di questo genere, li metto in una scatola di quelle di plastica dove non prendono l'umidità e le porto giù in garage, cantina, sgabuzzino, nei posti che avete dove stipare un po' di cose senza che vi rimangano in mezzo. In due casi, il caso in cui tornino di moda, non sarebbe questo il caso, non lo so, potrebbero essere dei pantaloni a zampa, particolarmente a zampa, qualche anno fa messi via e ritirati fuori adesso che torneranno. Li metto da una parte perché se sono cose che mi andavano ma non mi piacevano più, potrei andarle a tirare fuori quando torneranno di moda. Se, come in questo caso, non penso che li potrò reindossare ma sono capi di un certo valore. Li tengo da una parte o per una questione di vintage, quindi di tenerla lì, e poi per una questione molto romantica, ossia io spesso ho la fortuna di poter attingere dall'archivio vintage di mia mamma. Ossia, lei ha sempre operato in questa maniera, quindi ha sempre messo via, messo da parte le cose che non le stavano più o che non le piacevano più ma che avevano un loro valore sia di moda che di qualità del capo e io le vado a recuperare. Quindi, romanticamente, un giorno, se avrò una figlia, potrà tirare fuori questa minigonna anni 90, in ottimo stato, ricordiamo, e indossarla come ho fatto io. Quindi, questo è l'altra categoria decisamente più spinosa è quella delle cose che assolutamente non si possono più tenere. Vi faccio un esempio. Questi pantaloni, che voi non vedete in tutto il loro splendore, sono dei pantaloni di un tessuto, niente di che, ingessato e avevano la particolarità di questi legacci laterali che si sono tutti rovinati, quindi il nastrino all'interno non erano di grande qualità, non mi ricordo più dove li avevo presi, non saprei dirvelo. E quindi risultano particolarmente rovinati, hanno una stranissima forma che non è né a palazzo, né a zampa di cavallo, né a zampa di elefante, zampa di cavallo. Insomma, sono dei pantaloni che non rimetterei e che non avrebbe nessun senso tenere da una parte. E questi, miei cari, finiranno non buttati, perché non si buttano mai i capi d'abbigliamento, a meno che non siano bucati, rotti, strappati. Io ho questi pantaloni che per il mio gusto personale non vanno più bene, probabilmente non ci entrano neanche più dentro e che non penso abbiano un qualche valore a livello di vintage, li metto nei cassonetti dedicati agli abiti caritas, umana, quello più vicino a voi o quello che più vi sembra giusto. Perché buttare via comunque un paio di pantaloni non rotti non mi sembra carino, visto che non tutti hanno la possibilità di farlo. E quindi semplicemente preparo un sacchetto, sono tutti chiaramente dall'armadio, quindi sono tutti lavati, preparo un sacchetto e la prima volta che passo davanti allo scatolotto dei vestiti usati, li lascio a loro. C'è poi, mi stavo dimenticando, l'ultima categoria di vestiti, di abiti che sono stati messi da una parte e sono rappresentati perfettamente da questo, da questo abito che mi era stato regalato, mi sembra mia nonna qualche anno fa, non particolarmente, un abito che però io non uso, nel senso che non mi ci vedo. Forse l'ho messo una volta a un capodanno, ma qualche anno... non mi ci vedrei più, non mi ci vedo più, non so, non rientra nel mio gusto. Questi vestiti qua rientrano tutti in un'altra scatola, sempre in plastica, sempre antimuffa e antitutto. Oddio, ci sono anche passanti per la cintura, vabbè. E vanno a costituire l'archivio costumi da carnevale, barra festa a tema, barra, non lo so, serata da ridere, insomma, queste qua potrebbero essere riutilizzate per un Halloween, un carnevale e quindi vanno in quest'altra scatola. Messi quindi da una parte i vestiti che andranno a riempire, eccole là, le varie scatole appunto di cui parlavamo, ricomincio a reinserire questi capi all'interno dell'armadio, prima di andare ad aggiungere quelli più prettamente invernali che erano stati stipati in un altro posto. Quindi seguendo la divisione che ho scelto prima, vado a reinserire i capi all'interno dello spazio vuoto. Salutate lo spazio vuoto, ciao! Mentre sistemate l'armadio vi do un consiglio, un altro consiglio, è quello di provare quei capi che magari è un'intera stagione che non mettete, perché a parte le sorprese d'Italia, parliamo delle sorprese d'Italia, io ho preparato questa piccola, voilà, questa piccola motta di, questa piccola colonnina di pantaloni nei quali non entro più, ma entrerò, perché io, a parte che sono a dieta, ma sono anche fiduciosa, sono dei bei pantaloni e ho intenzione di rimetterli e quindi li posizionerò in una parte dell'armadio e non li appendo, li metto da una parte sulla mensola, in modo che poi mano a mano che perderò peso e tornerò in forma, proverò e poi li reinserirò nell'armadio, perché metterli tra gli appendini sarebbe solo uno spreco di spazio. Ma provando, si scopre anche, per esempio, che questi pantaloni che sono dei semplicissimi pantaloni neri, che io uso per lavoro o la sera se voglio uscire, insomma dipende, che sono a palazzo, che io amo moltissimo, li ho provati e sono lunghissimi. Quindi, anche se io magari al lavoro vado con un tacco non altissimo, però questi qua me li pesto e quindi li porterò a... hanno già un orlo fatto, perché chi è puffo come me sa che pantaloni della mia lunghezza mi salvano adesso che c'è la moda del risvolto, ma altrimenti niente. E quindi li porterò a rifare l'orlo in modo da accorciarli ancora di un centimetro, magari di un pochino, in modo da non pestarli se dovessi mettere delle scarpe, magari le stringate maschili, tanto per dirvi, tanto per farvi un esempio. E altra cosa che per esempio ho scoperto sono magari orli che si sono un po' mollati, per esempio questi qua, sempre neri, infatti non vedrete pantaloni neri quando vi faccio vedere la panoramica, perché si sono mollati tutti, ma vabbè. Vedete, questo qua aveva l'orlo, ma si è scuccito dentro e quindi cade in... no, non vedete nulla, fidatevi. E quindi cade in alcune parti e quindi devo portare anche questo a rifare l'orlo. oppure per esempio questi, che vedete, a pestarci sopra si sono rovinati e quindi andrò a vedere se è possibile tagliarne un pezzo e rifare l'orlo magari un po' più corto, leggermente più corto, perché sono dei bellissimi pantaloni che io amo. E ecco, quindi provate, provate, provate e siate clementi con voi stesse, quindi anche se non buttate via quello in cui non entrate più se vi piace tanto, ma mettetevi a dieta e tornate in forma per poterli rimettere. Allora, come cominciamo? Cioè, come ho cominciato? Ho cominciato dalle giacche, perché le giacche io le metto sempre lì, da quando ho comprato l'armadio e quindi se domani aprissi l'armadio e non trovassi lì le giacche, probabilmente farei un colpo. Ho messo le giacche qui e le giacche che io abbino sempre di giorno o poi, la sera, in base all'occasione, diciamo che comunque bene o male le metto per lavoro o per qualche serata, le ho divise per colori in questo caso, quindi nera, bianca, toni del rosa, toni del blu, maculato, eccetera, eccetera. Poi ce ne ho passate alle camicie e per le camicie ho iniziato a seguire il principio che vi dicevo prima, dal più casual, diciamo così, al più formale. Quindi vedete che le prime, vediamo se da sotto riesco, eccola qui, le prime sono quelle a scacchetti, poi ci sono quelle in tono jeans o jeans, si passa a quella bianca, questa qua lavorata in seta e si arriva poi a questa che era decisamente quasi una blusa e quindi ho messo su tutte le camicie. Le blusine, come quella lì sotto o delle altre che sono lì, vanno lì insieme alle gonne perché là sopra mi si rovinano e poi lì ho più la visuale libera perché in inverno ci sono meno gonne, teoricamente, lì sotto. Continuiamo! Veniamo quindi ai pantaloni, qui era l'ultima camicia, li ho messi anche in questo caso per ordine di occasione d'uso. Jeans colorati, jeans, jeans più, non so, autunnali, chiamiamoli così, poi ho i pantaloni sportivi, quindi quelli in maglia o quelli elasticizzati e poi piano piano si arriva a quelli, tipo questi qua blu o questi qua che sono sportivi ma che possono andare bene anche in ufficio, quelli più prettamente da lavoro o da ufficio e poi quelli neri che come vi dicevo prima, tre quarti sono da rifare l'orlo, da risistemare, quindi non ci sono ma saranno lì. Yeeey! Il letto è liberato! Quindi come potete vedere ho riempito l'armadio, ho inserito tra le giacche e le camicie le due maglie lunghe che non ci stanno lì sotto e poi ho messo i vestiti, anche in questo caso partendo da quelli più casual, più sportivi, andando poi verso quelli un po' più da ufficio, quelli da serata non importante, quelli neri che vanno sempre bene, arrivando a quelli un po' più da sera, un po' più particolari e poi quelli magari da cerimonia e via discorrendo. Ta-da! Sì, lo so, sono in controluce e non mi vedete bene, ma era solo 35 secondi di spezzone. Quando mettete via i vestiti invernali, quando mettete via i vestiti estivi, se sono in seta, in raso o anche semplicemente in quei materiali che si rovinano, si tirano i fili e possano rovinarsi, vi consiglio sempre di girarli e di metterli via al rovescio, in modo che tre quarti delle volte hanno delle sottovestie all'interno, se anche non ce l'hanno e si tirasse un filo, è comunque un filo dell'interno e quindi non vi si rovinano mettendoli via. Altro consiglio! Altro consiglio! Quando mettete via dall'estate all'inverno gli indumenti bianchi, anche in questo caso ribaltateli su se stessi, in modo che se per caso stando lì o semplicemente entrando a contatto con altri colori si rovinano un pochino o si sporcano, sarà sempre la parte interna e non quella esterna a rovinarsi. A questo punto voi direte, sì ho la luce dietro ma tant'è, a questo punto voi direte bene, il gioco è finito, il letto è vuoto, tutto è rientrato nell'armadio tranne quello che non ci deve rientrare e invece no! Bisogna andare a ripescare quei vestiti prettamente invernali e autunnali che io avevo messo nell'altro armadio o che erano stati messi nelle scatole o che erano stati messi via per inserirli nel nuovo guardaroba. Come vedete la pace dura da poco e quindi qua ci sono i vestiti autunnali che avevo messo via, qua ci sono quelli un po' più da cerimonia, lì c'è ancora roba estiva che ho trovato che dalle fantasie percepite essere assolutamente estiva e quella invece è l'angolo abiti da sera, regna il colore e l'allegria e vabbè insomma in realtà poi abbino degli accessori colorati, in generale le scarpe. Quindi adesso questo dovrà trovare la sua collocazione qui dentro. Dimenticavo di dire che anche in questo trasferimento di guardaroba alcune cose sono andate ad ingrossare le file, le file vedete quella vitina rosa, quella che ho andato là, sono andate ad ingrossare le fila di quanto ho regalato messo via, messo da parte. E ritadam, letto di nuovo libero, la pila delle cose estive, delle cose da mettere da una parte, delle cose da regalare, delle cose mb, aumenta. Nel frattempo qui ho sistemato la parte delle gonne e in questo caso mi sono gestita in maniera un po' diversa, nel senso che ho inserito in questa prima parte i top, le canotte camicia, quelle un pochino carine che uso per andare in ufficio o per le serate, eccetera. Poi ho messo le gonne e in questo caso sono andata un po' al contrario, nel senso che ho messo qui quelle che in genere uso per l'ufficio o per gli eventi, a fuoco, qui quelle un pochino più sportivette, poi sono arrivata qua in fondo e ho messo anche dei coprispalle, delle giacchine che uso quotidianamente. E poi qui in fondo invece le giacche, quelle un po' più da occasione, che vedete sono quelle in rasa storte e sono finite lì in fondo, tutto bello pressato e compresso. Tadam! Ho chiaramente inserito i famosi vestiti che erano sul letto nelle varie postazioni all'interno dello scomparto, mentre per quelli da sera li ho riportati nell'armadio di là. E ora ve li muovo. Ecco, questo sarebbe l'altro armadio dove vedete ci sono i cappotti e le giacche e i completi di massimo. Cosa è successo? Che come vedete questi vestiti sono particolarmente lunghi e quindi nell'altro armadio andavano a toccare la mensole e a rimanere piegati e quindi ho preferito riporli di qua. Ora andrò ad aprire quelle che sono due delle scatole del cambio armadio che devo svuotare. Si, sembra una profuga, me ne rendo conto, ma è così. Altro consiglio, quando aprite queste scatole che io trovo in assoluto le migliori per conservare i vestiti tra una stagione e l'altra, che sono quelle per capirsi di Ikea con la cerniera e impilabili e poi li si può trascinare giù con queste linguette, controllate che cosa c'è dentro perché magari durante i saldi o avete comprato degli ottimi sostituti a dei maglioni magari un po' infeltriti, rovinati o che non usate più e quindi potete procedere allo smaltimento. Nel frattempo vedete che ho svuotato la parte dei maglioncini che sono finiti tutti lì, quelli estivi, che in realtà quest'anno... ah sì, là c'è il mio bambolotto, è un ciccio bello vecchissimo, ma vabbè, era nell'armadio anche lui, poverino. E lì vedete che ci sono i maglioncini estivi ma che in realtà non sono stati usati perché col caldo che faceva quest'estate mi ci mancava giusto il maglioncino. Ok, cosa può succedere nello spacchettamento? che con il peso degli altri maglioni alcuni siano rimasti sotto e quindi vedete tutti spiegazzati. Nessun problema, ci si armerà di ferro da stiro e si procederà allo stiraggio. Dopodiché io divido i maglioni che vanno posizionati appunto su quella mensola là in fondo, eccola lì, per lunghezza, quindi quelli là che sono già là sono quelli più lunghi e poi vedete quelli sono questi, questi qua sono quelli corti, poi ci saranno i ponci che sono un mio grande amore, quelli a cappatoio e i gilet. Altro consiglio, mentre fate le vostre analisi nell'armadio, controllate lo stato dei vostri appendini, degli vostri appendi abiti. Io rientro nella categoria di quelle che non ha mai acquistato un appendi abito, perché se lo fa dare dai negozi quando può e perché aveva una mamma che li ha accumulati negli anni e quindi quando sono venuta a vivere fuori mi ha dato un sacchettone di appendi abiti. Però chiaramente usandoli col tempo, soprattutto io che sono piccola e quindi uso l'amico per arrivare a prendere gli appendini più in alto, li sforzo, li rovino abbastanza e quindi questo è il momento ideale per sostituire quelli un po' sgangherati, un po' sbilenchi, un po' rotti, un po' e sistemare il tutto al meglio in modo da cominciare la stagione con l'armadio pronto. Quasi dimenticavo una cosa importantissima per me che sono questi, vediamo se me lo metto a fuoco. Eccolo lì, questo è un sacchettino di lavanda, io amo la lavanda e quindi profumo sempre l'armadio con quei sacchettini, uno è lì e l'altro invece è quello lì sotto. In più adesso che è tutto pulito e sa un po' di cera perché ho dato la cera al prodotto per il legno, metto un po' di questa, se ci piacerebbe, eccola qui che è un'acqua profumata alla lavanda, ne do un paio di spruzzate, vediamo, lontane perché sennò macchio i vestiti, non vorrei mai, sac, 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 e chiudo. Tadam, senza che si trollevi niente, ed eccoci qua, guarda roba, concluso, io ho messo le ciabatte nel frattempo. Ed eccoci qua, quindi come vedete l'armadio è risistemata, là sotto ho messo i pigiami e le cose che non mi stavano più, quelle fuori, ecco, là sotto ho messo le cose che non mi stavano più, quindi quelle fuori taglia, ma che conto di rimettere a breve, e i pigiami, qui i maglioni, qui quelli un po' più leggeri e i ponci, questi sono gli appendini vuoti che dimostrano la pulizia che è stata fatta, lì ci sono i pochini maglioni che vanno, pochini i maglioni, i maglioni che vanno stirati perché erano messi male nelle scatole, quelle sono le tre buste di abiti che regalerò perché non li userò più, insomma, come dicevo prima, c'è da qualche parte il sacchettino, è già in ingresso, dei vestiti che porterò dalla sarta, questa sono io, aspetta che mi metto a fuoco, e quindi dopo circa, aspettate che guardo, è tre ore, visto anche il sole che è calato, avete assistito al pomeriggio nella mia stanza, l'armadio è sistemato, e quindi benvenuti nel guardaroba perfetto